Mi chiamo Francesco Della Morte, sono il custode del cimitero di Bufalona. Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri, non tutti per fortuna, entro sette giorni dal decesso di notte si risvegliano e diventano morti che camminano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.